Siamo abituati con i bambini, i nipoti, i nonni a stare tutti insieme a casa dei nonni a fare una grande tavola con quasi 18 persone. Quest'anno lo passeremo ognuno a casa propria. Il momento dello scambio dei doni lo faremo all'aperto in giardino. Sarà un Natale diverso ma non per questo meno emozionante e saremo comunque distanti fisicamente ma ci sentiremo molto vicini. Distanti ma vicini. Proteggiamoci ancora.